Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi, e l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia. Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti. Mi porto da mia madre, abita alla casa accanto. Ilari non è la donna sdolcinata che ti fa le carezzine. Diciamo che il primo abbraccio me l'ha dato circa dopo 7-8 anni. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi null'altro per tutta la vita? Sì. Erano molto molto divertenti, un po' Sandra Raimondo. Allo stesso tempo Ilari comincia a fare più carriera. Chiamami principessa Ilari. Era un vanto per me anche a scuola, insomma, avere la mia sorella famosa. A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E dai lì. Un disastro. Ti devo abbracciare adesso. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Vent'anni che frequento una persona penso che ti fidi di quello che ti dice. Secondo me c'aveva ragione Francesca. C'aveva ragione in che senso? Ero stata la prima a fare il primo passo. Mio marito mi vedo strano. Perché? E che ne so. E' stata sancita la definitiva rottura. Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto... una cosa del genere. Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita.